Il Campobasso prepara con serenità questa partita di Terni, una partita che sprizza blasone da tutti i poveri, un big match tutto da vivere. Come sta la squadra, con quale approccio vi state preparando? La squadra adesso sta bene, perché i risultati positivi aiutano a dare stima e consapevolezza. Però è normale che noi andremo a Terni agguerriti, perché comunque non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo riscattare un inizio di campionato così balbettante. Quindi sono sicuro che non sbaglieremo l'approzzo e ci faremo valere. Un inizio balbettante, l'ha detto lei, ma più figlio forse della scarsa vena realizzativa in avanti, che adesso invece è stata trovata e anche i meccanismi girano molto bene. No, assolutamente scarsa vena realizzativa, io credo che dovevamo conoscerci, era questo l'anello mancante, quello che ancora non riusciva a ottenere dei risultati. L'attacco è anche, sì, è vero che è frutto di individualità, perché sicuramente noi abbiamo secondo me giocatori forti in attacco, però è anche l'aiuto di tutta la squadra che ti consente poi di concretizzare tutte e portare palloni agli attaccanti. Quindi non era un problema attaccanti, era un problema soltanto di creare e di trovare un assetto tecnico-tattico equilibrato e giusto. Dieci punti in sette partite, il bilancio era stato messo in preventivo in tal senso, sono i punti che vi aspettavate? Vedendo la nostra squadra e le squadre che abbiamo affrontato, io credo che siano i punti giusti, forse un punto in più, però credo che siamo in linea con quelle che erano le aspettative. Un'ultima notazione per la tifoseria, sempre presente in casa, in trasferta, lo dice sempre anche il mister, penso che l'apporto sia notevole. Io a volte quando sono allo stadio guardo i tifosi, perché comunque ci danno una forza e hanno un attaccamento a questa squadra, a questa città incredibile, quindi io li ringrazio e per me ogni volta che li vedo che ci sostengono ti dà una forza enorme.